Ragazzuoli oggi andremo a tagliare delle carte di pokémon già proprio così perché ognuno di noi ha un pacchettino come vedete 1, 2, 3 e il quarto Più delle carte che sono tutte doppioni ok tutta roba che non ha valore vedete sono tutte carte fuffa Cosa faremo oggi allora ognuno di noi aprirà un pacchetto Guarderà le carte che ci sono dentro e ovviamente non ho acceso la rec di questa telecamera perché sono stupido ma va bene lo stesso Hai sentito ma lui lo diceva? Sì praticamente andremo a fare questa cosa Noi consigli pescheremo un numero quel numero saranno le carte che dovremmo andare a tagliare Ovviamente poi vedremo che cosa abbiamo tagliato Ok vai Potremmo aver buttato via 600 euro come potremmo aver buttato via nulla Però noi quando apriamo il pacchetto possiamo vedere le carte e poi le mischiamo E prima lo spacchettiamo e facciamo vedere poi devi chiudere gli occhi e uno di noi deve mischiare il pacchetto Allora parte marci con il primo pacchettino e vediamo io prendo un po' di carte Tu non ti fai domande xiao Allora adesso è anche più basso vedi bene quindi fammi vedere ste carte per favore perché ne abbiamo bisogno qua eh Allora lui deve abbracciarla comunque la fotocamera C'ha energia Una roba inutile Dark Knight Croco no questa me la rubo No quella si taglia No è una roba da video eh Vediamo cosa ti esce Allora spera che non esca nulla perché se dovesse uscire una carta tipo V No a me non esce niente Ok Mannaggia vabbò comunque Quelle sono dieci carte Te ne aggiungo una due tre quattro Ok e Siri ci dovrà dire un numero da uno a quattordici Se dovesse uscire il quattordici sai che le devi tagliare tutte Dammi qua non guardare tu che cioè lo so Non ci penso io Allora Marco chiedi alla tua di Siri che mi fido un po' di più Non mi piace Alexa preferisco Siri perché è più Guarda qua Li bisogna fare così e tu dovrai tagliare le carte Dammi un numero da uno a quattordici Sette Il tuo numero Marcello Tu devi tagliare sette carte ma non girarle Le giriamo dopo e vediamo cosa hai tagliato Ok Sì sì tagliale pure così Ma io non ce la faccio Marci taglia queste carte Muoviti Olla Vediamo Comunque sarebbe bello farlo con le carte di Marci Che valgono tipo un botto di so Mamma mi è impazzito Deve sfogarsi No Ecco Dark Grey no E un'energia è uscita Vabbè poi le vediamo E altre quattro per fare le sette ragazzi Chissà se ha tagliato Ha pure zig zag Pensa se magari ha tagliato proprio l'unica reverse No reverse Sì reverse che c'era Vediamo che cosa ha tagliato Dammi queste carte qui Voila Ok Qua abbiamo invece un Dark Eye Un Latios E ha tagliato la reverse ragazzi Ha tagliato la reverse Allora spero che non valga molto questa reverse Nel caso mi dispiace amici di Pokemon Comunque valeva Sì adesso so che sia Valeva questa carta E Marci l'ha tagliata Vediamo che cosa si è salvato qui invece Penso roba fuffa anche qui Roba da tagliare Sarebbe roba che dovresti tagliare Vedi Cioè queste sono quelle che dovevi tagliare No Guarda Piplup Onyx Mi sento male Pensa te Aspetta questa se l'ho salvata Ma la posso tenere adesso Eh sì che l'hai salvata Vabbè Hai salvato quella che ti piaceva Andiamo alle prossime Xiaolino Apri sto pacchetto Ma puoi anche frantumarlo Non ti preoccupare Ti avvicino la fotocamera Ti avvicino la fotocamera E guardi Ti riguarda come si fa Allora com'è che devo fare Allora andando questo Boh se lo volete Tieni Ne prendi quattro Ok da qua no Mi pare che Ne sposti sì quattro E le metti davanti Quattro Quattro e le metti davanti E quattro E le metti davanti Davanti le metti Così? Sì Morpeco Bellino però Schermori Ho paura Mettile un po' più in basso Non c'è niente raga Dici di no? Avrà anche lui una reverse Ma è il giusto della speed Agrocuda No Niente Reverse pure lui Taglio io Sti cavoli Vabbò E comunque guarda che Le carte reverse Potrebbero valere qualcosina Sono comunque un euro Quelle sono dieci carte Marco cosa gliene aggiungiamo? Ehi Siri Facciamo cinque questa volta Vai Il numero Davvero una dodici Davvero una dodici Due Uh Attenzione Sono due carte Che dovrà tagliare Il buon chiaulino Vuoi vedere che di queste due Lui Beccherà proprio quella Vediamo Vai Vediamo Dammi così Alla Ok E taglio questa Vediamo Io guardo Io guardo E voilà Devi darmi questa parte qui Vediamo che cosa ha tagliato All Ok No ha sbagliato la parte Scusate Vabbè Morpico E Chargia bug Non male Non male Carte che comunque Mi fa proprio male Ragazzi voi ovviamente Non fatelo Perché lo facciamo noi Che siamo degli esperti Dei professionisti Tutte le carte che abbiamo Sono carte Fuffa Queste qua sono carte Che non valgono niente Se voi giocate con i vostri amici Non tagliategli le carte Vediamo Marco Cosa c'è Hai visto qualcosa Hai visto qualcosa Dreadnought Sleekwo Shana Perché? Così No Groobin Bro Anki Ok Ok Gumi Banneri reverse No No bro Bro Ragazzi Tirano fuori Vediamo che cos'è E' un Charizard Che cos'è? No È un Cinderace B Bro Tocca vedere quanto vale Ragazzi Allora Sono qui Mi vado a mettere dentro Assetta Dammi il valore No 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 voglio vedere solo il valore Vediamo No 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 Non soffrire Cos'è sin Cinderace B Una Due Tre Quattro Cinque Siamo Guardate un attimo Vediamo quanto andiamo E metti quella lì La vedi la carta Dammi un'altra Vatti Perché lo facciamo via Dico il numero 44 e 264 Ok Va bene Buttiamo via 13 euro Se Marco Va a tagliare quella carta Ha buttato via 13 euro Vabbè Che comunque Non sono pochi Il numero da 1 a 15 10 No bro No C'hai tipo l'80% Di possibilità di tagliarle Ok Calmi Ma sai cosa faccio io? Io faccio il botto E li taglio tutte assieme Non ce la fai a tagliarle tutte bro? Ti fidi di me Allora prendo questa Ok Poi prendo questa Palesa che c'è in mezzo Sì 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 Palesa Mamma mia raga voglio piangere 6,8,9 e 10 Ok Allora io faccio Non guardate raga Non guardate Io le guardo Non sbagliarti Marci Facciamo le cose Marcino E lui deve guardare Io ho paura raga No zitto Zitto No non guardare nessuno Sto dicendo Sei sicuro puoi cambiare Marco queste sono le carte che avanzano Queste 5 qua Ragazzi Tutte assieme Marco Ma ce la fa la forbice Te l'ho detto che non ce la fa E lui che è scemo Ne puoi tagliare un po' per volta? Ragazzi c'è già sto male così Tagliavo Poi che lo fa con calma Capito? Xiao Cioè Madonna raga Parese ora lì in mezzo Con la 13 euro Che poi in realtà sono 14 Non 13 Tieni queste qua Bazzone Poi non guarda Posso guardarlo io Posso farle vedere io Per favore No 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 Dai No 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 Fammi E poi queste qua Mamma mia raga Cioè Xiao tu tu sto facendo veramente Ti rendi conto che Ma è davanti o dietro di queste? No questo è il sotto È il sotto bro Devi darmi l'altra Quali sono tutti i minuti? Allora E lui che se le guardate Ma se le guardate Eh bro Tanto dobbiamo vederle Allora Dammi qua Cioè è qui il coso Non lo so io Allora Voilà Vai Energia Ok Bene Questo non so cosa sia C'ha un culo tagliato Un'energia Ok schermo Energia Energia Un altro No Non ci credo Vabbè Se la fai gradare Alla fine basta Che gliela mandi Ragazzi Io questa carta La incornicio in un quadretto Tagliata così E gliela regalo Al buon De Marche Ve la faccio vedere Una carta che aveva 600 euro Eh sì Pensa così Ve la faccio vedere Quella che ho trovato io prima Intendevi? Proprio quella Sì ho tenuto Marche Ho trovato una carta Che se vuoi farcela vedere Faccia vedere Però Comunque si è salvato Raga Si è salvato Comunque Vabbè Il banner si è salvato Lo taglio pure quello L'ultimo pack L'ultimo pack Raga Allora Aspetta un attimo Paddy Siri dimmi un numero Da 1 a 15 Ah non le guardo No bro Ragazzi è uscito 15 Ma noi non abbiamo detto Quante carte 15 No 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 Vediamo sempre 15 No ma quello Quello che farei io A parte il codice Visto che sono tutte 15 Ne metterei 5 Non le guardo neanche No 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 Sì 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 Non le guardiamo nemmeno Dividi il passo Sei pazzo Allora lì già c'è una carta V C'è una Non le guardiamo nemmeno Vabbè scusa ma fammi tagliare anche quella Eh xiao Sono 15 Non possiamo guardarle Ho già tagliato quelle che valgono in teoria Ho già tagliato C'era un lugia Ma noi lo facciamo per il content ragazzi Questo pacchetto costa 6 euro Vabbè Io Questo le prendo tutte io Tu non È meglio che non guardi forse No vabbò Ma io Quando dico che la vita non mi sorride mai Esatto È anche questo uno dei motivi Visto che sono 15 Tanto è inutile tagliare tutti Ok Vediamo Ok Va bene Devi farle vedere un po' più vicino Scusami eh Zubat Vabbè Non sono girate Bene Pongus Che è la mongus poi in realtà Madonna ogni volta che le gira mi viene Ora sono quelle Potrebbe esserci quella Quella greve Ok Mamma mia C'era le croga anche da sotto Che sembrava lugia Che sembrava un lugia Ragazzi ovviamente voi non tagliate le carte Perché comunque io c'è un po' ci ho sofferto Però queste sono tutte per fortuna carte fuffa Di quella tagliata ci facciamo un bel quadretto Anzi sapete cosa vi dico Prendo anche l'altra holo che abbiamo tagliato Esatto No faccio tipo un'altra holo che abbiamo tagliato Ci faccio un quadrettino E uno di questi lo regalerò a voi da qualche parte Quindi ci vediamo in un prossimo video Voglio andare a piangere perché adesso sono stanco e voglio Ciao Ciao Ciao